Dietro fronte di Atene sui pagamenti al Fondo Monetario Internazionale, dopo l'incontro tra Juncker e Tsipras a Bruxelles, la Grecia ha fatto sapere che intende accorpare i quattro pagamenti in un unico esborso da 1,5 miliardi di euro, che scade il 30 di giugno. In poche parole, Atene rifiuta le proposte dei creditori, in quanto il programma non risolverebbe la crisi, anzi aumenterebbe povertà e disoccupazione. Intanto, FMI e Banca Centrale Europea concordano che serve un accordo forte che produca crescita, giustizia sociale e sostenibilità di bilancio. Anche la cancelliera Angela Merkel ha fatto sapere che continuerà a lavorare perché la Grecia resti nell'eurozona. Questo venerdì il Premier Tsipras, dopo l'incontro con il ministro Varoufakis, informerà il Parlamento sui progressi nel negoziato con i creditori.